Buongiorno Buongiorno, vorrei usare l'internet Certo, può usare il computer numero 3 Come si usa? È la prima volta che vengo ad un internet point Lei mi dà un documento di identità, io la registro e le do un username e una password Lei inserisce questi dati prima di accedere all'internet e quando ha finito clicca su logout Quanto costa? Dipende da quanto tempo usa internet, il minimo è mezz'ora e costa 50 centesimi Ho visto che ci sono delle cabine telefoniche, quanto costa chiamare all'estero? Dipende dal paese signore, lei compra una scheda e ha un tot di minuti a disposizione Quanto costa una scheda? Mia sorella non sta molto bene e devo telefonarle Quella da 60 minuti costa 5 euro e 50, mentre quella da 120 ne costa 20 e può anche usarla per internet Mi dia quella da 20 Bene, ecco a lei Grazie, qual è il numero del computer scusi? Il 3, da quella parte Grazie mille Prego Grazie a tutti Grazie a tutti Se Ries Grazie.